Ben trovati a tutti e a tutti, il 24 febbraio di due anni fa, l'invasione della Russia in Ucraina, una guerra sono due anni, che però era iniziata molti anni prima, anche se apparentemente non interessava molto. Ecco, questi due anni dovrebbero portarci a una valutazione, a cos'è servita la guerra, a cos'è servito aggiungere armi, inviare armi, è servito forse ad aumentare solo il numero dei morti, delle vittime civili o militari da tutte le parti, non certo a trovare soluzioni di pace, anche perché abbiamo visto solo la strada militare, non quella diplomatica, non quella politica. Come sapete io ero stato parecchie volte in Ucraina, sono stato, ringrazio VCO Azzurra TV, il telegiornale, che ha seguito questo viaggio organizzato, la carovana di Stop the War Now, a fine settembre 2022. Abbiamo incontrato Kiev, Yuri, Katia, per dare voce anche qui in Italia a chi si oppone alla guerra, grazie appunto al movimento non violento che tiene continuamente i rapporti. Poi siamo stati a Odessa, siamo stati a Mikolaiv, città grandissime, senza luce, senza acqua e poi l'anno scorso in questi giorni in Italia il movimento non violento ha invitato Olga della Bielorussia, Daria della Russia e Katia dall'Ucraina in Italia per dire loro rappresentano i movimenti della pace, della non violenza, che rischia anche con la propria vita dire no alla guerra e mentre i potenti, i loro capi vorrebbero che si sparassero vicenda, si facessero la guerra, loro sono qui, la foto è fatta a Milano, per dire no, noi non vogliamo scegliere la strada della guerra e allora io credo davvero che guardando all'attualità, a quello che sta succedendo, se vuoi la pace prepara la pace, non la guerra. Ci rivediamo venerdì, grazie.